L'ho dichiarato all'inizio di questa esaltante avventura, nelle liste che sostengono la mia candidatura, non ci potranno essere candidate la cui condizione giuridica cozzi con il protocollo dell'antimafia, protocollo ufficiale condiviso da tutte le forze politiche. Credo che sia importante che la lotta alla mafia passi attraverso segnali concreti. No. Io sono stato presidente di una grande provincia del Mezzogiorno dopo Napoli. La mafia spara quando è in difficoltà. La mafia cerca alleati. Ed io avevo revocato un appalto di 52 miliardi di lire all'ora, che si sapeva già essere sotto l'orbita di una cosca mafiosa. Avendo anche creato una fondazione anti-usura per lottare gli usurai, venne condannata a morte senza saperlo. Bene, devo dire che io rare volte in pubblico ho parlato di questa mia condizione. Non perché mi senta un eroe civile, ma perché credo di aver fatto il mio dovere. Sapevo che assumendo la presidenza della provincia di Catania dopo 25 arresti eccellenti, avrei trovato un terreno insidioso. Bene, cosa voglio dire? Voglio dire che il patto tra potere politico e potere mafioso in Sicilia è antico, nasce nel 1943. Ed allora si è articolato e si è consolidato sotto varie forme, in varie maniere. E il problema non è soltanto del mafioso che cerca il patto col potere politico. E molto spesso i due poteri si identificano perché coincidono. Il problema è anche l'atteggiamento mafioso, il metodo mafioso, di chi, e lo ripeto a scanso di equivoci, è convinto che alla regione siciliana l'assessore comandi più del burocrate. Bugia, bugia. E la sconfitta della politica. Ma non alla provincia di Catania dove io ho governato. Altrove. E la sconfitta della politica. Perché il dirigente resta al suo posto 30 anni, 35 anni. Conosce tutto, conosce i meccanismi. E si è ben chiaro, ci sono dirigenti, li conosco personalmente, persone di grandissimo livello e di integerrima onestà. Ma c'è anche chi deve qualcosa al potere mafioso. E allora, fino a quando noi non opereremo questo innesto di un nuovo metodo, di una nuova cultura del procedimento amministrativo, la politica sarà sempre socconvenente. vuole che io rimanga in tema, vuole che parliamo per un attimo, per un minuto, delle aziende confiscate alla mafia? Visto che siamo in casa, per vedere il tema della serratta. Bene. 1.540 aziende, secondo l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, se questa è tutta la mafia. 1.540 aziende, di queste, 8 su 10 in 2-3 anni muoiono. Vivevano quando erano nelle mani dei mafiosi. Nel momento in cui passano sotto il controllo dello Stato, non riescono più a reggere il mercato. E' la grande, inquietante domanda che tutti ci dobbiamo porre, ma è anche la testimonianza concreta di come una parte del mercato sia drogato, una parte del mercato sia con le regole alterate. E allora, invece di chiedere all'azienda confiscata alla mafia come fa a pagare il conto con la banca, è stato richiamato da Fava, questo concetto che io condivido. Invece di chiedersi perché l'Enel costringe l'azienda a chiudere, se l'azienda non può pagare 20-30 mila euro di bolletta arretrata, occorre che lo Stato intervenga per consentire a quelle aziende, attraverso una mediazione con l'Enel, con la Serit, con Equitalia, con l'Impes, con gli altri enti pubblici o parapubblici, di addivenire ad una condizione che consenta alle aziende, liberate dalla morsa mafiosa, di poter restare sul mercato. Non è un problema contabile, è innanzitutto un problema morale, perché altrimenti costringiamo i cittadini a doversi iscrivere al partito dell'antistato, al partito della rassegnazione. Ecco perché io sono convinto e concludo, direttore, che sarà una battaglia dura quella di sconfiggere la mafia. Dura ma possibile. E per farlo serve una serena campagna di persuasione, di informazione e di sensibilizzazione. Per farla occorre che il governatore non sia ricattabile. Non sia ricattabile dai partiti e ricattabile dalle organizzazioni e dai dirigenti. Ecco perché sono ancora convinto, e lo dico con grande serenità, che questa battaglia elettorale non si gioca soltanto sul materiale umano, che è quello che nel bene e nel male dipende dal governatore saperlo licenziare o saperlo tenere accanto, sia da mantino trasparente ed efficace, ma dipende dalla capacità e dalla credibilità di chi ci mette gli ultimi 40 centimetri. Di chi ci mette la faccia con la propria storia, col proprio passato e col proprio presente. Siccome non è questo il luogo per fare campagna elettorale o per fare slogan, io le dico, direttore, sono convinto, sono serenamente convinto che noi possiamo sconfiggere la mafia e possiamo fare di questa terra una Sicilia più bella, come la sperava Paolo Borsellino, che non appartiene né alla mia né ad altre parti politiche. appartiene alla parte migliore del patrimonio umano di questa regione. Grazie. Allora... 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 Allora...